Vedi, invece siamo qui, in un bosco, a trasportare un cadavere. Stamattina eravamo insieme, un incontro come un'altra, poi boom, vaffanculo! Eccoci qua. Merda. Non sono tuo amico. Non è colpa mia se siamo finiti in questa storia. Ora vedi di non correre, urlare o fare cazzate simili. Complicheresti le cose. Ascoltami e fai quello che ti dico. Hai sentito? Fermati! Ale! Il resto tutto si sistemerà.